Ma quello chi è? Ah, ma io l'ho chiamata. Ciao, ciao. Questa è lei. Ecco, il suo ordine. Oh, ma quanto è interessante. Interessante, cos'è che ha ordinato là? Vediamo. Ecco, così il mio letto sarà ancora più bello. Oh, è così grande. Devo mettere giù. Ma cosa sta facendo là? Ma cos'è accaduto là? Oh, ecco. Ma è gigantesco. Ecco, quasi finito. E adesso sì, gli strumenti. Che male. Ok, questa scatola la mettiamo via. Perché è dentro alcio? E cosa farà adesso? Costruttore Ameri al lavoro. Ok. Mettiamo questo così e questo così. Non male. Adesso farà una cosa bellissima. Bene, sono un grande costruttore. Ah, questo. Ah, questo. Un letto a due piani. No, sembra volutudo. Mmm, sì. Il suo letto è migliore. Ah, bene, bene. So cosa fare. Comprare. E adesso spezziamo il corriere. Bene, eccola. Ragazzi, questo è a voi. Grazie. Portatelo. Fatto. Oh, che bello. Passi. Ok, mettiamo il letto. Adesso sì, questo. E aggiungiamo un po' di luce. Mettiamo dei quadri così sarà più bello. E adesso controlliamo. Sì, funziona bene. Oh, è incredibile. Dai, su, chiudere la buca. E chi ha adesso il letto più bello? Ah, che male. E cosa ci fa lì nella vicina? Dai, non sbirciare. Cosa posso fare? Venga. Ha un'idea? Io prendo tutto. Sì, qui. Mi piacciono queste tente. E anche questo tovagliolo mi sarà utile. Non hai soldi. Ma ho una bella amiginazione. Oh, non è male. Ah, così. Mi piace. Ah, cosa stai facendo? Ma... Ma questa tenda deve saltare fuori. E col tovagliolo posso fare un'amaca. non è così comodo. Ah, che bello. Cosa vicina? Gli inviti? Ah, che noia. Cosa fare? Uh, ordinerò una cosa. Mary sarà gelosa. Ah, ecco, sta arrivando. Buon poveriggio, signorina. È il nostro ordine. Insaliate. Sì, presto qui. Sarà fatto. Tutto pronto. Ah, lei. Grazie. Ciao, ciao. Sì, vi aspetta tutto quanto. Nella stanza. Ciao, ragazze. Guardate la mia casa. Oh, è fantastico, Jennifer. È così accogliente. Abbiamo, sì, una festa privata. Nessuno può entrare. Eh, adesso è il momento di divertirsi. Ah, io so cosa fare. Ok. Bene, bene. Il tovagliolo. Sì, adesso metto qui... I piazzi, sì. Ecco i miei amici. Cosa sta facendola? Ok, alziamo il volume della musica. Cos'è? Vabbè, spero che Mary sia felice. Ok. Basta. Sicurezza? Sì, sì. Guardate... Cosa sta succedendo qui? Eccoli. Buon vorigio. Qual è il problema? Vengo con me. Le farò vedere tutto. Ecco. Mi disturbano. Eh, adesso risolveremo la questione. Cosa sta succedendo qui? Ma lei chi è? Eh, signorina. Ah, io posso risolvere tutti i problemi. Ah, bene. Ok. Nessuna regolarità. Oddio. Oh, cosa? Bingo. Un'altra idea. Allora farò sì la mia festa. Per farla sì. Io prendo il mio mappamondo. E con questi cd faremo qualcosa di interessante. Sono felice di queste. So che Jennifer sarà molto, molto gelosa. Ok. Adesso prendiamo i copi stiti. E le mettiamo sul mappamondo. Oh, che bellezza. Sì, fatto. Oh, che bello. Oh, ok. Ed ecco il resto faccio le decorazioni. Sì, è abbastanza stupenda. E ovviamente accenderò la musica. Eh, sì. E così sarà... Più forte. Cosa sta succedendola? Oh, che bello feste che hai fatto, Mary. Ciao. Sono qui a trovarti. Ah, hai fatto una bella festa. Cosa devo inventarmi? Ah, una scatola. Sì, con le lampadine. Sono così belle. E adesso? Sì, mi sarò il cavo. Ecco. Ho fatto un fantastico girl hand. Adesso la devo metterla. Ma cosa si è inventato di nuovo? Ma è così bello. Adoro la mia casa. Ok. Venga qui. Sì, sì, venga, venga. Ok. Dobbiamo far brillare questo posto. Sì, sì. È quello che mi serviva. Ecco. Funziona. Oh, grazie. E che ha soldi? Grazie mille. Che bello. Sì, è bello. Nella tua casa. Oh, che succede? Oh, no. Un incendio. Abbiamo un incendio. Aspetta. Adesso spegneremo tutto. Non aver paura, Jennifer. È tutto questo controllo. Ecco. Ce l'ho fatta? Sì, ma la mia casa è rovinata. Mi spazio Jennifer. Ma puoi sempre vivere qui nel mio. Andiamo da te. Anche la mia casa è fantastica, vero? Sì, è molto bella. Ecco. Questi sono i miei amici peluche. È qui che vi vorrò le prossime settimane. Ma è così vecchio questo letto? Sembra che sia per cadere a pezzi. Ha un aspetto orribile. Oh, no. Non è come quello. È bellissimo. Oh, che bello. Ma anche il conodino. È così bello. Non lo adoro. Non dormirò qui? Sono pesantissimo questa valigie. Oh, no. Che cosa è? Non ho intenzione di piovere così. Devo fare qualcosa. Non ho idea. Kate. Che ci fai là? Vieni qui. Vuoi 100 dollari? Ecco. Sono d'accordo. Dai i miei soldi. Va bene. Allora stai sul tuo letto. C'è qualcuno. Devo aprire la porta. Perché è molto importante. Dai, tratte. Mi sto aspettando. Buongiorno. Abbiamo portato tutto quello che ho ordinato. Grazie. Ecco il pagamento. Cos'è questo? Cos'è questo? Ma perché hai portato questo? Oh, guarda. Ci sono tante cose interessanti all'interno. Posso fare un letto bellissimo. che stai facendo? Che stai facendo? Sei vivo? Sì, a posta. Ecco. Vabbè, non è colpo della scatola. È colpa tua. Sto bene. Adesso vedrai. Buongiorno. Ok, cominciamo. Non riconoscerai più il mio letto. Sarà un vero capolavoro. Ok, facciamo la base. Non è male. Io te l'avevo detto. So cosa fare. Devo ristorare la mia camera. Adesso. Buongiorno. Dove dobbiamo mettere? Cosa? Hai comprato un letto? Pronto? Non è giusto. Io posso spendere i miei soldi come voglio. Fatto. Guarda che bello. E non è tutto. Aggiungiamo anche i cuscini. Le tende. Ecco. Ottimo. Le luci. Questa è molto importante. Ecco fatto. Chiudi le bocche. Ecco. Il mio letto è ottimo. Devo fare il mio letto ancora più bello. Che devo fare? Non lo so. Ma devo avere delle opzioni. Ah, lo so. Mi servono le tende. Anche la tovaglia. Eccola, prendo. Ok, ottimo. Ora posso decorare il mio letto. E farla molto bella. Ma cosa devo fare? Bingo. Non disturbarmi, eh? Ecco. Devo così fissare le tende. Ecco. Funziona. Il mio letto si trasforma. Sì. Meglio. Ecco. Quasi finito. E nessuno potrà dire che ho un appello. Calmati. Oh, no. Cosa facendo? Sei troppo nervosa. No, non si preoccupare. Dove toglierlo per fare l'amacca. Che bello. Se un'amacca non è tanto. Io so cosa fare. Vediamo. Ok, devo far vedere a Gata cosa posso fare. E non che pensi che io sia... Che lei sia la migliore. Eh, sì, sono qui. Dove vai? Oh, che bello. Portatelo qui. Metterò questo qui. Ecco. Avrà anche la musica qui. E anche qualcosa per disco. Bye. Bye. Tutto pronto. Ok. Devo fare una piccola festa. Ciao, ragazze. Kate, scusa. Non ci ho invitata. Eh, vabbè. Io voglio accendere la musica. Uh, che bello. Una vera festa. Bingo. Organizzerò una festa migliore. Non sarà simile alla sua. Sono i miei giocattoli preferiti. Devo mettere il tavolo. Bene, ora sedete. Ok. Facciamo una festa del tè. Siete così carini. Vi adoro. Volete del tè? Servitevi. È molto buono e profumato. Kate ha la sua festa. Devo accendere il volume. Oh, no. I miei zimpani. So come fermare questa. Eh, mi sto spedendo. Entrate. Perché mi ha chiamato? Venga qui. Guardate cosa fate queste compagnie. Una festa. Vedo che qualcuno sta facendo una festa illegale romorosa. Hey. Ragazza, tranquilla. Ci penso io. Soldi? Mi piace la sua offerta. La nostra questione è completamente risolta. Ah, vedi. Dannazione. Scusi, devo andare. Io ho un altro piano. Ho intenzione di fare una festa ancora più bella. Amici, abbiamo qualcosa da fare. Ho portato dei vecchi cingini. E possiamo fare sì. Una palla luminosa. Ecco, guardate. L'ho tagliata a pezzi. È quello che mi serve. Oh, che belli che sono. So cosa fare. Awesome. Adesso mi insegnerò a Mappamundo. Perché? Sì, è un cerco ideale. Ecco, guardate. Awesome. Sì, è fatto. E posso mettere anche i cingi sulle pareti. Yeah. Le luci. Sì. Riberano lo spazio. Oh, che bello. Io mi amano anche io al telefonino. Oh, c'è un'altra festa. Ed è molto più interessante. Partacipa anche tu. Mi annoio. E perché non ho un nuovo telefono? Aspetta, Tazzo. Posso cosa fare? Dobbiamo creare le luci. Nella scatola dovrà messerci tante lampadine. Sì, è così. Vediamo se sono tutte quante intatte. Sì. Però devo inventare cosa farci. Bingo. Non mi serve più la scatola, ma il cavo. Ah, so dove prenderlo. L'importante è che non mi becca. Devo tagliare insieme a quanto me ne serve. Fatto. Devo tornare. E so cosa farò. Una vera e propria ghirlanda. Uh, è ottima. Così starà benissimo. Ah, so. Ma perché c'è da questa ghirlanda? Ok. Beh, bene. So cosa farò. Sì, venga, venga. Abbiamo portato quello che ho ordinato. Queste sono le migliori ghirlande. E ora le metteremo. E così. Vedrete. Uh, sono più belle delle mie. Dobbiamo solo accenderle. Fatto. Com'è? Grazie. È quello che volevo. Eh, ci contatta pure. Ok, devo fare una piccola pausa. Per non capire il misraio. Oh no! Cade! No, non questo! No! Oh, il veletto va a fuoco. Aiuto! Abbiamo un incendio. Ma che ci fai qui? Aiuto, Andrea. Dovremmo usare l'essentore. Non preoccuparti. Spegnerò queste fiamme. Ecco fatto. Ciao al sicuro. Grazie. Ce l'hai salvata. Non bevi niente. Wow! Ok. Dobbiamo ordinare le vernici. Batti cinque. Oh, ecco che arriva la consegna. Chi è? Evviva! Un passo! Ciao! Ok. Dai, su. Seguimi. Da questa parte. Sì, fantastico. Grazie mille. Ah sì, ragazze. È proprio quello che ci serve. Va bene. Facciamo un accordo. Andiamo. Andiamo! Ma come funziona? Ah, facile. Ok. Trapano qui dentro. Oh, sì. È un po' pesante. Ok. Le ragazze se la cavano più non sta bene. Ora dobbiamo farciare le vizi. Sì, così. Oh, ma credo che sia così. Vabbè, spero che funzioni. Ok. Oh, sì. Ce l'abbiamo fatta. Fantastica. Ecco la scala per il primo piano. Ragazzi, che incostruzitici che siamo. Oh, giusto. C'è anche qualcosa lassù. Scatola gialla per me. Quella verde per me. Quella blu. Rosso. Mmm. Un intero secchio di vernice. Sì, vernice spray gialla. E io ho un rullo. E io ho un pennello. Oh, è soffice. E stiamoci al lavoro. Dovremmo dipingere tutto di giallo. Uh, sì. Che faccino sorredente. Eh, ok. Va bene. Dai, su, seriamente. Ecco. Tutto così giallo. Sì. È il mio colore preferito. Ok. Andiamo. Ok. Così, col secchio. E in un secondo. Ed è fatta. Ok. Io metto i guanzi per non sporcarmi. Ora facciamo un po' di lavoro. Così, con il pennello. Bene. Ah, sì. E voilà. L'intera stanza è del mio colore preferito. Bene. E io vado avanti con il rullo. Ecco. Ora è tutto verde qui dentro. Ok. Ah, sì. Ciao, ragazze. Siamo dando la grande. Ok. Dobbiamo decorare la stanza. Che cosa ho qui? Uh, vediamo. Che bei fiori. Li prendo tutti. E ora li devo attaccare così sul muro. Ok, bene. Che bello. Ok. E cos'altro qui dentro? I cuscini. Non posso farne a meno. E ora ho un angolo morbido. Vieni qui, papero mio. Dai, su. Ehi. Non sprecciare. Eh, cosa stanno facendo lì? Britney ha decorato la stanza. Bene. Anche a me farebbe comodo. Ok. E dove è la mia scatola? Ah, eccola. Bene. Il nastro adesivo luminoso. Proprio quello che mi serve. Eh, bene. È un modello fantastico. E questo cos'è? Cotone? Sì. Idro e filo. Sembra una nuvola. Serve solo un po' di vernice spray. Così. Bene. Ok. Ed ecco fatta. Che la luce sia con noi. Wow. Mi sembra di essere davvero tra le nuvole. È davvero fantastico. L'unica cosa che mi manca? Eh, sì. È una poltrona reclinabile. E io ce l'ho. Dai, viva Hagiwagi. E ora di fare qualche foto. Ah, cosa? Hai decorato la stanza. Voglio anch'io. Vabbè. Vediamo cosa c'è qui. Ok, un orologio. Fantastico. E da questa parte però, vabbè, c'è qualcosa. Questo? Ah, sì. Ma un po' più grande? Ah, così. Sì, le labbra. Grande. Sì. Ed ecco la ciglia. È un'altra. Bellissima. La mia sedia a sacco. Non c'è niente di più comodo. E ora è di rilassarmi. Vediamo cosa c'è nella scatola. Un tappeto. Bene. Ci decorrò l'intera parete. È bellissima. E questo fiore ci sta. Bene. Cos'è? Devo gonfiarlo. Wow. Ma è stato difficile. Ma la sedia gonfiabile è pronta. Sarà un ottimo? Sì. Un'ottima cosa per fare il sonnellino. Soprattutto così con un creeper sopra. Ok, ragazzi. Vi presento il mio giocattolo. Ciao. Che carini che sono. Mi piace. Oh, sei così carino. Mister tartaruga. È così bello aversi con noi. Ma io ho in mente qualcosa. Salta qui in macchina. Sei pronto? Allora, metti il pedale sul l'acceleratore. E andiamo. Così. E adesso però torna indietro. Uccellino, guarda. È una mela. Sì. Vedi? Bene. Cos'è? Una farfalla. Farfalla. Beh, ma qual è il tuo problema? Vabbè, non importa. Ehi, pesciolino. Ti piace star qua? Penso che ti piacerà di più in questo acquario. Ok. E ma... Dove ti nascondi? Ehi. Cucu. Ah, eccoci qui. Ok. E voi siete così carini. Che piccoli che siete. Io vi adoro. Come fate ad essere così carini? Ok. Dai su. Andate a giocare, bambini. Vi voglio così tanto bene. Sì. Siete le creature più belle del mondo. I miei bambini. Oh, sì. Ok. Ok. Questo sì va qua. Ciao. Sì. Dov'è il mio ordine? Ottimo. Ok. Credo che sia arrivato. Ok. Sicuramente il ragazzo delle consegne. Salve. Ecco il mio frigorifero. Ok. Si sbricchia ad entrare. Sì. Ecco. Lo metto qui. Nella mia stanza. Ci sta perfettamente. Ok. Vediamo cosa c'è dentro. Ah, sì. Un sacco di caramelle. Julie. Ok. Sì. Sono il tuo colore. Certo. Ecco a te. Serveci pure. Ok. Va bene. Io invece prendo un Kit Kat. Delizioso. Kate. Ah, sì. Rosso è il tuo colore. Bene. Ecco a te. Buon appetito. Ok. È tutto finito. No. Ci sono gli Skittles. Ok. Nessuno sta guardando. Ok. Oh, no. Ciao, Tina. Ok. Prendili. Ok. No. Va bene. Non c'è niente qui. Devo scuoterlo. Oh. Una caramella. Solo una. è buonissimo. Sì. Mi piace. Io adoro i Kit Kat. Sono buonissimi. Sì. Tutte le caramelle. Sono mie. È fantastico. Ok. Almeno io mangio questo. Cosa? Oh. No. Si è scaricato. E cosa faccio adesso? Ah, sì. Giusto. La scatola. Cosa abbiamo qui? Vediamo. Uno schermo. E poi cosa abbiamo qui? Sì. Che bello. Un bisbi. Ehi, Julie. Vuoi giocare con me? Fantastico. Vieni nella mia stanza. Ok. Eh, aspetta. Ecco a te. E adesso lo accendo. E adesso possiamo giocare assieme. Ma posso venire anch'io? Cosa? Vabbè, ragazzi. Scusate. Ma posso giocare solo a due persone. Allora. Vabbè. Eh, ma... Anch'io ho una scatola. Ok. Vediamo cosa c'è. C'è uno schermo. E poi... C'è un tappetto da ballo. Ehi, zina. Guarda un po' cos'ho. È forte, eh? Dai, su. Aprilo. Ok. E adesso accendiamo lo schermo e andiamo. Dai, su. Penso che siamo diventati piuttosto brave. Che bello. Fammi vedere. Cosa vuoi fare? Sembra che si stiano divertendo. Ehi, ragazze. Possiamo unirci a voi. Che ne dite di scambiarci? Sì. Sì. Ok. Vai. Ah, sì. È da tanto tempo che volevo ballare. Dai, su. Spacchiamo, Giulie. Andiamo. Ah, sì. Tino sta andando alla grande. Battiamo tutti. Ah, sì. Io e te siamo decisamente andate per ballare, ragazze. Sì. 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 Sì.